Ciao bianconeri, vengo a portarti le notizie dal calciomercato della Juventus prima di continuare, lasciate quel super mi piace e iscrivetevi, per rafforzare il nostro lavoro. Durante la Coppa del Mondo Under 20 della FIFA tenutasi in Argentina, un giovane in particolare della selezione uruguaiana ha suscitato l'interesse dei bianconeri. Alan Matturo è stato uno dei migliori giocatori della Coppa del Mondo Under 20, premiato con il pallone d'argento per le sue eccezionali prestazioni con la nazionale uruguaiana, campione del mondo. Alan Matturo ha già esperienza in Italia, in quanto fa parte del Genoa, club della Serie B. La Juventus è interessata al giovane difensore uruguaiano perché crede che Matturo abbia molto da migliorare e possa diventare uno dei grandi difensori mondiali a breve. Ci sono altri avversari per la Juventus, ma la Juve potrebbe trarre vantaggio dal fatto che Alan Matturo già gioca in Italia ed è adattato al calcio italiano. Alan Matturo dovrebbe essere acquistato? Commenta ciò che pensi.